Dopo la sconfitta all'esordio, patita a Matelica, i Biancorossi impattano per 2-2 all'Aragona con la San Maurese, regalando ai tifosi una prima casalinga con poche luci. Successo rimandato per i ragazzi di Ottavio Palladini, che hanno offerto una prova opaca, costruendo poco e dimostrando di essere ancora lontani dalla migliore condizione. Rammarico per il gol ospite, arrivato al 93esimo dopo che Stivaletta era riuscito, quasi allo scadere, a trovare la rete del 2-1. Si parte con un minuto di raccoglimento, in ricordo della sorella del giocatore biancorosso Pierluigi Colitto, scomparsa tragicamente in un incidente stradale accaduto a Milano. Il tecnico di casa schiera la sua squadra con il 4-3-3 con Leonetti, Fiore e Pagliari, a cercare di far breccia nella difesa ospite. Al quinto, doppia occasione locale con Ridolfi e Napolano, che arrivano ad un soffio dal vantaggio, ma con Baldassarri decisivo. Inizio arrembante per i padroni di casa, visto che al settimo Napolano cerca il gol della domenica, mettendo però a lato, imitato qualche attimo dopo dal giocatore ospite Enrico, che trova la risposta in calcio d'angolo di Morelli. Gara subito godibile, giocata su buoni ritmi, nonostante il gran caldo. Al decimo si rivede la formazione ospite con Bonandi, che dal limite mette la sfera di poco fuori. E' però il preludio al vantaggio romagnolo, che arriva all'undicesimo con Zuppardo, che approfitta di un pallone perso da Ridolfi sulle tre quarti, mettendo così alle spalle di Morelli. Per l'1-0 della formazione ospite, gara in salita dopo un promettente avvio per i locali in campo in maglia rossa. La squadra del presidente Franco Bolami preme, ma allo stesso tempo deve stare attenta a non scoprirsi. Al ventitresimo ancora San Maurese, sempre pericolosa con Zuppardo, che questa volta però incorna sopra la traversa. La pressione abruzzese a sprazzi, ma anche confusa, e che comunque porta al 32esimo al pareggio, grazie a Leonetti che fa tutto da solo in area ospite, mettendo alle spalle di Baldassari per l'1-1. Il pareggio rinvigorisce Fiore e compagni, che continuano a premere a testa bassa, senza però riuscire a trovare il gol del vantaggio prima dell'intervallo. Nella ripresa si ricomincia con Stivaletta in campo al posto di Ridolfi. I vastesi partono a testa bassa, senza però riuscire a trovare vere e proprie azioni da rete. E con la San Maurese, che non corre mai veri pericoli. A metà ripresa Palladini manda in campo Giampaolo per Napolano, con le emozioni vere grandi assenti in questo secondo tempo. Palladini gioca anche la carta sciba per Fiore, ma in campo accade poco nulla, con qualche fischio dagli spalti all'indirizzo della vastese. Gli ultimi minuti di gara regalano però una doppia svolta. Al 42esimo Pagliari trova infatti la risposta di Baldassari, che poco dopo però incappa in una clamorosa papera su un tiro innocuo di Stivaletta, con il pallone che passa sotto le gambe dell'estremo romagnolo e finisce in rete, facendo esplodere la gioia dei 700 presenti sugli spalti. Il gol del 2-1 è come una liberazione, ma dopo un'occasione ancora per Stivaletta, al 48esimo Merciari si inventa il gol della domenica, realizzando la rete del 2-2 che fa calare il gelo sull'Aragona. Paladini più rammaricato per il gol subito a tempo scaduto o più preoccupato per la prova della squadra, che oggi, diciamolo sinceramente, non è stata molto brillante? No, più preoccupato per la prova, non tanto per il gol preso allo scadere. Purtroppo nel calcio ci sta, che prendi gol. Preoccupato per la prova perché siamo partiti anche abbastanza bene, che potevamo andare in vantaggio i primi dieci minuti, abbiamo fatto quelle due o tre situazioni, poi dopo il gol loro abbiamo perso proprio il bandolo della Matassa, tant'è che abbiamo cambiato anche il modo di giocare, ci siamo messi con 4-3-1-2, poi abbiamo pareggiato la partita grazie a Leonetti, e poi nel secondo tempo ci siamo rimessi 4-3-3, è stata più equilibrata la partita, nel senso che è stata una partita non bellissima da parte di tutte e due le squadre, il pareggio è giusto per quello che si è visto in campo, e dobbiamo lavorare tanto perché in questo momento non diamo la sensazione di essere una squadra compatta, è quello che cosa mi preoccupa più di tutto, al di là delle qualità dei giocatori che ci sono, però quello che mi preoccupa è che non ci sia una squadra compatta, che sa soffrire quando deve soffrire, e che sa prendere in mano la situazione quando c'è da prenderla in mano. Sì, soddisfatto fondamentalmente per il risultato, anche se secondo me è stata una buona gara, ha giocato abbastanza a viso aperto da entrambe le formazioni, nel senso che sicuramente non è stata una delle gare bellissime da vedere, però abbastanza di sostanza, sia noi che loro abbiamo provato in tutti i modi a vincere la partita, fondamentalmente poi il pareggio credo sia il risultato giusto, noi in quel momento magari non meritavamo di andare sotto, poi abbiamo sumpito un gol come hai detto te, rogambolesco, siamo stati bravi e caparvi a crederci, siamo stati ovviamente anche un pochino fortunati, però sono cose che nel calcio poi ci stanno e te le ritrovi sempre.